ciao a tutti ragazzi allora mi è stato detto da qualcuno un paio di live fa forse guarda Diego ci sei su Akinator io ho detto impossibile che mi provi Akinator però un altro risposto sì sì è vero guarda adesso proviamo veramente se Akinator comunque mi trova eccomi qua sul sito di Akinator potete anche volendo installare l'app e proviamo lui dice ciao mi chiamo Akinator pensa ad un personaggio reale o immaginario proverò a indovinare via gioca vediamo un po' che domande mi fa seleziona vabbè personaggio un animale il tuo personaggio è stato scoperto scoperto grazie a youtube sì ha a che fare col mondo dei videogiochi beh sì gioca a minecraft sì ci gioco ha pubblicato video con la propria ragazza no se mi è fatto vedere in faccia a mio faccione e femmina mi sembra di non essere femmina no il tuo personaggio a che fare con i gabbiani no porta gli occhiali non ce li ho a che fare con fabi j no è famoso grazie a minecraft no ci gioco ma vabbè famoso è una parolona però più che altro per fortnite quindi no ha a che fare con fortnite beh sì quello che facciamo di qui live con voi ha ucciso un cane il tuo personaggio ha mai vinto una medaglia alle paralimpiadi no il tuo personaggio è un capitano no ha girato un video con sua sorella la sorella non ce l'ho il tuo personaggio va a scuola no è grasso no adesso ultimamente ho preso un po di peso il tuo personaggio gioca a bro star no non ci gioco a che fare con la famiglia david no sa cavalcare non lo so in realtà sì promettiamo non lo so perché nessuno di voi lo sa è nato in italia sì sa utilizzare lo sharingan ipnotico no alla barba beh un po sì non lunga ma ce l'ho quasi sempre non la faccio mai ha mai avuto dei figli beh sapete che ne ho due gabrielle olive sì a che fare con windows sì perché faccio un sacco di tutorial avete visto un sacco di tutorial di windows antivirus eccetera ed eccomi qua vabbè la foto c'è un po la pace la pirla in questa foto ma fa niente l'ho messa è simpatica quindi ma trovato ecco se ci giocate che provate quando mi chiede stai pensando pixel squad mettete sì grazie indovinato mi sento famoso scherzo logicamente non sono famoso però posso un contento di essere finito su akimator ok ragazzi ciao a tutti per questo video è tutto ragazzi iscrivetevi al canale e buon divertimento ciao a tutti Grazie a tutti.